Il 1777 fu in qualche modo questo, questa sorta di, lo dice benissimo, e lo voglio leggere perché lo dice come nessuno di noi lo può dire meglio, una congiuntura tra desiderio e rivoluzione, di rigenerazione e pulsione di morte. E che cos'è il Ciro di Trevi se non questo?